Dal punk al country, dal rock al tanto autorato, tutto questo solo qui a G-Rock, sigla! Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata G-Rock. Oggi qua con noi abbiamo Sara Velardo. Ciao Sara. Ciao a tutti. Benvenuta innanzitutto. Benvenuta da Lecco. Abito a Lecco, sì sì. Sono calabrese ma vivo a Lecco da 11 anni ormai. Come mai questa scelta? Ma mia sorella viveva già qui, è venuta per lavorare, io stavo seguendo il primo anno di università, poi ho capito che non avrei trovato lavoro e allora sono venuta anch'io qui, cercando di suonare e lavorare. Cercare fortuna, insomma. Come si dice spesso per i musicisti a cercare fortuna. Cercare fortuna, sì. Bene, bene. L'hai trovata, spero, sì? Pian piano, sì. Ce la stiamo mettendo tutta. Molto bene. Senti, vabbè, noi parleremo dopo del tuo EP nuovo che è appena uscito, che si chiama Polvere Gas. Giusto. Anticeperemo dopo tutti gli argomenti che tratti, perché tratti degli argomenti abbastanza delicati. Sì. Sì, dai. Facciamo di sì, non fare la tira, perché li affronti e quindi dobbiamo, purtroppo ci tocca. Grazie, sì. Gli argomenti che tratta, la nostra Sara, oggi qui con noi, sono la mafia, l'omosessualità e soprattutto, vuoi dirlo tu? Ma nel terzo, diciamo nel terzo singolo, parla dell'Italia in generale, il gioco d'azzardo, corruzione, politica, cose varie. Come vi avevo anticipato, temi delicati. Ci stava per l'appunto, no? Ci stava, sì dai, va bene. Va bene, me la concedi. Ok. E più uscito a gennaio? Sì, il 28 gennaio, sì. Adesso sta per uscire il terzo singolo, appunto, Polvere Gas, e i singoli precedenti sono stati Il mio amore immenso, che parla di omosessualità, e Ndrangheta, che parla di Ndrangheta, ovviamente. Parla di, lo sapete. Tra poco noi l'ascolteremo, ma prima di tutto volevo dirti, è bello da 32 anni quasi, facciamo sul ciglio dei 32, sì. E come la vivi questa esperienza da musicista? Ma bene, perché da quando ho compiuto 30 anni ho deciso che volevo fare veramente la musicista. Prima ho passato anni a dire un hobby, non ho avuto il coraggio prima di provarci seriamente. Di buttarti. Sì, adesso invece di volere una vita più tranquilla, dai 30 anni in poi ho deciso di buttarmi e di provare a farlo veramente di lavoro. E allora dopo ce lo raccontare meglio, lanciamo la canzone e lanciamo il video Ndrangheta. Sarà velardo. Ndrangheta Frisca e Giangheta, 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 Giangheta. Io ho commissario che passi, io ho sindaco che passi, io ho vigili che passi, e mi andava a fottire la mia, se cuno storza e sani sciuca, non vuole più pagare i casi, vuole ribellare, e mi andava a fottire la mia, se stai quattro comunisti, che gli figliarono quattro voti, se mi rinché non esti, con parole e con protesti. Un più per cento euro mi si, con tutti i sorti che si faci, che manca uno sconchino uffici, e poi mi ricci che stentano a compagini. Giangheta, 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 Giangheta. Se hai o fami vai e mangio dei parenti Non mi posso lamentare Tu non mi toccare Mi andi sopra a giangheta Eccoci tornate, abbiamo visto il video in drangheta Di cosa parla? Perché io ho sentito che canti in dialetto calabrese Ci sono i cartelloni per noi Poveri, poveri sciocchi che non comprendono Però insomma, raccontacelo tu che è meglio va Allora, questa canzone è nata durante l'emergenza rifiuti Che è iniziata l'anno scorso in tutta la Calabria E non è mai finita perché quest'anno i rifiuti sono anche raddoppiati Quindi io avevo scritto all'inizio una poesia Poi trasformata in canzone E durante le vacanze di Pasqua Ho coinvolto un po' di amici per realizzare insieme il video Mettendolo da parte Pensando poi di farlo uscire quando sarebbe uscito il disco Mentre ho avuto l'occasione di presentarlo prima Quindi a giugno 2013 Con Libera contro le mafie Perché hanno costituito il presidio anche a Bagnera Calabra Che è il mio paese nativo Lì il video è stato presentato la stessa sera In presenza del sindaco, poliziotti, tutte le fosse Tutto tranquillo Fatto sa che invece poi dal giorno dopo Sono iniziate una serie di polemiche Saravellardo, nemica del paese Va a riprendere l'immondizia Ci fa cattiva pubblicità Proprio prima della stagione estiva Il sindaco ha minicato di perelarmi Metà paese era con me Metà era contro di me Ma in un modo veramente doloroso Proprio stupido Anche ho ricevuto telefonate Il gente parlava male dei miei genitori Ah tu papà tu sei così Ah la figlia di velata C'è proprio Un disastro Un disastro Però la cosa mi ha fatto pubblicità Perché comunque pubblicità negativa Per loro Però per molti è stata positiva Quindi poi sono finita sui giornali Perché il sindaco ha fatto veramente una figuraccia Volendo querelare una sua concittadina Che fa una canzone contro la mafia Non è che ci fai proprio una bella figura Direi E quindi poi sono finita su una mattina Interviste e cose varie E poi mi sono scritta Musica contro le mafie Che è un concorso bellissimo Che raccoglie tutte le canzoni Sul sociale in generale Ma soprattutto sulla lotta alle mafie E vince il premio E ho vinto Sì sono una dei quattro vincitori Sono orgogliossissima di questa cosa Soprattutto dopo tutto quello che ho passato Certo Hai visto? Hai visto? Ho vinto io E adesso dimmi qualcosa Infatti tra l'altro adesso Finalmente le app si sono calmate Quindi io non sono ancora tornata in Calabria Dopo tutto quello che è successo Perciò Quindi non sai come i tuoi compaesani l'hanno presa? No lo so tramite Facebook Ah certo Corrispondenza social Sì sì Social network Tanti commenti veramente stupidi Tanti positivissimi Gente che mi ha incoraggiato in ogni modo Però anche tanta ignoranza Purtroppo se la situazione è quella che è Perché c'è tanta gente che non capisce niente Mi sembra chiaro Lancio così allora il nostro secondo videoclip Il mio amore immenso Sara De Lardo Sono Marta Il mio lavoro è progettare mobili Mi diletto con la poesia Scrivo versi per lei che vorrei fosse mia Ma non so se ricambio o no Sono Marco il mio lavoro è vendere automobili Mi diverto con il calcio Guardo tutte le partite Se vivo a Roma ormai da un anno Ho lasciato tutto per lui Il mio amore è immenso E anche se mi chiamano frocio Mi guardano male Non posso evitare Di ridere Da quando ho scoperto Che sei tu Il mio amore è immenso 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 Sono Anna e il mio lavoro apparecchiare in tavoli Mi diletto con il canto, scrivo anche pezzi miei Sono entrata finalmente nel mio corpo morbido L'anno scorso ero un album, ora sono io Sono Mario e il mio lavoro è far quadrare i numeri Mi diletto con la pesca, mi rilassa stare solo Ero nato con un corpo che non era il mio, ma poi sono tornato io E anche se ci guardano male, tu sei qui con me Non posso evitare di ridere da quando ho scoperto Che sei tu il mio amore immenso 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 Sono Giulio, il mio lavoro è fare bene i compiti Il mio sogno resta il calcio, segno a tutte le partite Sono stato con Nicole, ma non ho avuto i brividi Ero perso fino a quando è arrivato lui E anche se mi chiamano frocio Mi pestano sangue, mi buttano via Mi fanno morire, non posso negare Che sei tu il mio amore immenso 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 E eccoci qui, abbiamo ascoltato il mio amore immenso Sì, perfetto Dunque, anche qui tocchi un tema un po' delicato se vogliamo, come dall'altra parte ovviamente. Come mai, dove trovi il coraggio di esporti così tanto magari laddove altri preferiscono tacere? Ma tutto il disco che è stato ispirato da temi sociali è nato proprio per questa necessità, quindi dopo tante discussioni con amici, colleghi su questi temi ho sentito il bisogno proprio di parlare di queste cose, sia perché sono in un momento, io come tanti altri, in cui o si rimane in Italia e si cerca di fare qualcosa per migliorare e cambiare, oppure si leva le tende e si va all'estero. Quindi per la coscienza personale ho sentito proprio il bisogno di parlare di certi argomenti. Il mio amore immenso quindi ricordiamo parla di omosessualità. Sì, contro l'omofobia riduce il tutto a qualcosa di molto più semplice, sereno. È vero, allegro anche se vogliamo, perché come avete potuto vedere dal video, sentire la canzone è molto fresca, anche un po' estiva, tipo. Sì, sì, è una canzone d'amore, è una canzone pop fatta per essere cantata. Tu suoni anche la chitarra nel video? Sì, sì, sono una chitarrista, scrivo le canzoni con la chitarra, quindi è una canzone proprio pop, ispirata per cantare tutti insieme, gay, lesbiche, eterosessuali, sempre di amore si tratta. Eh sì, perché come appunto dice anche nel video vorresti mantenere questa sorta di uguaglianza, no? Sì, sì. Tra omosessuali ed eterosessuali, quasi sia la stessa cosa che fondamentalmente lo è, però ecco tu lo butti fuori ancora meglio, cioè lo fai proprio accogliere ecco. Bene, grazie. No, no, è bella, è molto carina e si vede tutto questo. Purtroppo Sara ti devo salutare, siamo giunti al termine, io ti ringrazio, è stato breve ma bello. Breve ma intenso, è importante. È certo. Io ti ringrazio per essere stata qua con noi alla terza puntata di G-Rock, vi ricordo di aggiungerci su facebook.com slash la televisione web, di mettere tutti i like, di commentare anche dalla Calabria, ricordiamo perché è importante, così abbiamo un feedback e vediamo cosa ne pensano. E nulla, seguiteci sempre come al solito, G-Rock, io per voi Ginger, stay rock!